Che il tema del nuovo teatro abbassano fosse sentito dalla cittadinanza si sapeva ma a soli tre giorni dallo spettacolo andato in scena in sala Chilesotti con l'amministrazione comunale si chiede già di calare il sipario o di stendere un velo pietoso, scegliete voi, per evitare ulteriori repliche. E già perché se l'intenzione era avere un confronto con la città il copione ha fatto acqua da tutte le parti. A dirlo è impegno per Bassano in un duro comunicato stampa. Apprezziamo il tentativo ma il parere dei cittadini non si chiede con una conferenza stampa a suo modo pilotata e soprattutto prima ci deve essere una valutazione onnicomprensiva del caso. Insomma un po' come dire senza giri di parole che si poteva fare di più e si doveva fare meglio nella forma e nella sostanza. Ma andiamo avanti ecco cosa aggiunge nel comunicato la lista di Roberto Marin. Sembrava che finalmente si fosse avuta l'accortezza di presentare le varie opzioni ai cittadini diciamo sembrava perché in realtà ad essere trattata è stata la sola alternativa data cioè la nuova costruzione ex novo di un teatro alle piazze o all'ex Santa Chiara. Sono tante le domande a cui un buon governo deve dare una risposta. Ad esempio in questo momento storico è opportuno sostenere una spesa così gravosa? Siamo sull'ordine dei 16-18 milioni di euro ovvero 15-16 mila euro a poltroncina per essere più precisi. Esiste poi un palazzo privato vincolato ad uso culturale. L'Astra sono state tentate tutte le strade praticabili prima di accantonare questa idea? È quindi doverosa una valutazione dell'impatto sull'investimento del bilancio del comune perché ci sono debiti e investimenti e il confine che separa gli uni dagli altri è molto sottile.